Ma io ho iniziato a cantare a 17 anni e cantavo bene. È stata una bella sorpresa. Non aveva paura di mostrare il suo dolore e la sua verità. Ha piantato la bandiera delle donne nella terra del rock and roll. La gente restava a bocca aperta. È buffo, più mi avvicino a questo obiettivo, più l'idea di diventare una star perde significato. Ma qualsiasi cosa voglia dire, io sono pronta.